Mario Bianchino è il nuovo presidente del lato rifiuti, l'ente d'ambito chiamato a gestire la delicata materia dei rifiuti in provincia di Avellino. L'accordo politico, siglato giorni fa tra i diversi esponenti delle forze presenti in provincia, ha determinato l'elezione bulgara di Bianchino, che ha dovuto registrare l'astenzione di due soli colleghi. Cento preferenze, tra cui quella del sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, e dei sindaci di Forza Italia, che dimostrano come Bianchino rappresenti la figura di garanzia rispetto alla gestione dei rifiuti in Irpinia. Maggiori sono i consensi, maggiori le responsabilità. Se per Bianchino aumentano gli impegni, per le comunità aumentano le aspettative rispetto alla soluzione dell'annosa questione rifiuti. Annosa perché mancano da tempo politiche chiare sulla gestione, perché mancano gli impianti e i costi lievitano. 139 euro il costo per conferire una tonnellata di frazione umida presso un impianto di trattamento. 193 euro e 39 centesimi il costo per conferire una tonnellata di indifferenziato presso lo stir. Il territorio che fino a ieri è rimasto fuori dalla gestione provinciale dei rifiuti, quello di Montoro, affidando il servizio di raccolta differenziata mediante una gara, torna prepotentemente alla ribalta con l'elezione del suo sindaco a presidente dell'ATO.